Ed ora un'altra vicenda che sta facendo molto discutere, la regione deve ancora prendere una decisione ma alla fine dell'ultimo scambio di lettere tra i governatori Serracchiani e Zaia pare ci siano poche speranze per il mantenimento del punto nascita alla tisana. L'ospedale di Portogruaro infatti si sta già riorganizzando per riaprire il reparto di ostetricia e ginecologia. Ci siamo recati sul posto per verificare come stanno le cose. Una nuova scure si abbatte sul punto nascita di la tisana. Tempo pochi mesi, forse già in primavera, le future mamme potranno partorire all'ospedale di Portogruaro. Già si parla di concorsi per il dirigente della nuova struttura e per il personale medico. A darne notizia in diretta al telegiornale delle 13 di Telefriuli è stato oggi Lorenzo Bulegato, direttore del nosocomio Veneto, confermando di fatto il no grazie con il quale il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha risposto alla collega Deborah Serracchiani e all'assessore alla salute Maria Sandra Telesca che hanno proposto di concentrare alla tisana il punto nascita di riferimento anche del territorio sul quale insiste l'ospedale di Portogruaro. Confermo il volere del Presidente della Regione Veneto di riaprire il punto nascita qui presso il presidio ospedaliero di Portogruaro. Da parte sua l'azienda US10 Veneto Orientale ha già avviato le procedure concorsuali sia per quanto riguarda il responsabile dell'unità operativa della ginecologia ostetricia ma anche del personale medico e sanitario necessario per la riapertura del punto nascita. Quindi si ritornerà a nascere a Portogruaro. Al momento le persone di Portogruaro dove si orientano? San Vito, San Donà, La Tisana? Ma prevalentemente in questo caso appunto verso anche San Donà di Piave perché appunto era l'altro punto della nostra US ma anche negli ospedali, in alcuni casi negli ospedali limitrofi. Quindi agli utenti di La Tisana si sente di dire qualcosa in particolare? Magari sono anche quelli di La Tisana che potrebbero venire a partorire qui nel caso in cui il punto nascita di La Tisana dovesse chiudere? Beh certamente sì, adesso sarà anche il nostro compito di fare in modo che questo punto nascita sia più accogliente possibile appunto per i nostri pazienti. E i cittadini di Portogruaro sono comprensibilmente felici per la riapertura del loro punto nascita. E' bello, dice, poter dare alla luce un figlio nella sua città e nella sua regione. Alcuni sottolineano come sia importante poter disporre di una struttura attrezzata vicina, soprattutto in caso di emergenze. C'è anche chi punta il dito contro una guerra di campanili tra Veneto e Friuli. Io assolutamente sono affezionata all'ospedale di Portogruaro perché purtroppo ho avuto delle esperienze negative. Qui è morto mio marito e mio padre, sono medici professionali ed umani che sono due qualità che si hanno nel DNA. Quindi io lotterò sempre perché l'ospedale di Portogruaro venga riaperto ed è giusto che i bambini nascono a Portogruaro. Sono molto contento se riparte, anche perché io ho due figli e una delle quali purtroppo ha dovuto andare a San Vito. Perché dice purtroppo in Friuli? Non perché San Vito non sia un buon ospedale, è che ovviamente se siamo a Portogruaro e io sono in Veneto dovremmo utilizzare le strutture più vicine. Ci auguriamo che il punto nascita rimanga perché già negli anni precedenti le fughe verso il Friuli ci sono sempre state. Parlo di Latisana, parlo di San Vito al Tagliamento. Come abitante di Portogruarese, come medico che lavora presso il centro trasfusionale di Portogruaro, mi auguro veramente che il punto nascita rimanga. Abbiamo seguito in questi mesi le vicissitudini dell'assunzione del personale per salvare il punto nascita. Speriamo che questa sia la volta buona. Sarebbe contenta che Portogruaro si doti di questo? Certo, abitando qui sì. Sì, sì, siamo contenti che riaprono il punto nascita qua a Portogruaro. Era una mancanza che sentivate già da qualche tempo? Si sente sì la mancanza, anche a Latisana siamo andati. Come vi trovate in questo ospedale? Bene. Meno male che lo riaprono, non c'è bisogno. Anche perché mi pare che la Tisana lo stanno chiudendo. Quindi quelle che andavano alla Tisana arriveranno qui. La Presidente Seracchiani aveva proposto l'inverso, cioè che le persone di Portogruaro andassero alla Tisana. È perché ognuno guarda un pochettino il suo orticello, ma speriamo che qua lo riaprano, dai. Sono contentissima che riapre il punto nascita, anche perché è più comodo per le persone non doversi spostare tanto per dover partorire, soprattutto in caso di emergenze. Avere un ospedale vicino aperto è una garanzia e una sicurezza in più per le mamme. Potrebbe essere un incentivo anche per le donne a fare più figli a Portogruaro? Sicuramente, sicuramente. Lei che ha lavorato in questo punto nascita, in ginecologia, che cosa può dire della riapertura, del ritorno del punto nascita a Portogruaro? Sono felice. Un in bocca l'occupo a Medici e anche le mie colleghe. Viceversa, sono preoccupati ed amareggiati gli abitanti di La Tisana che vedono sfumare la possibilità di mantenere il punto nascita cittadino. Secondo alcuni, i numeri non c'entrano e si tratta solamente di una mossa politica. Il punto nascita di La Tisana con l'apertura di quello di Portogruaro diventa, ahimè, ancora più a rischio. Purtroppo sì, ci dobbiamo praticamente spostare per le urgenze, perché noi come punto di riferimento abbiamo praticamente palmanova, quindi crea veramente grossi disagi. Anche lei ha partecipato alla raccolta firme e alla mobilitazione dei cittadini La Tisana per salvare il punto nascita del paese? Sì, io ho partecipato. Sì, comunque dispiace veramente perché l'ospedale è importante per una città, per cui se rimane aperto sia a Portogruaro sia a La Tisana sarebbe un'ottima cosa, perché per tutti i cittadini penso che un servizio... Quindi la soluzione migliore è tenerli in qualche modo aperti entrambi? Ma sì, sì, quello sì, perché La Tisana è La Tisana e Friuli e Portogruaro siamo Veneto, per cui... La sua opinione a riguardo? La stessa, nel senso che è un servizio ai cittadini, l'ospedale, la salute, prima di tutto. Quindi dovrebbe rimanere aperto. Quindi la politica deve pensarci bene prima di fare dei tagli? Sicuramente, sicuramente sì, non sulla sanità. Come donna sì, sono preoccupata, anche perché il punto nascita di La Tisana era un ottimo punto nascita, è un ambiente positivo, propositivo per le donne, anche gestito con grande umanità. Di conseguenza è triste che sia stata presa questa decisione ed è triste che non sia stato dato un ascolto adeguato proprio alle esigenze umane della famiglia. Ma sempre, ripeto, contro che tolgono qua un reparto di nascita, tolgono e portano dove? A Palmanova. Credo che non va bene per tutti che vivono qua, La Tisana, Pricinico, Pocini e così via. È sempre un punto di riferimento per le mamme, per le giovani mamme. È peccato che venga chiuso, ecco. Io sono una nonna, ma non importa per quello. I suoi figli sono nati alla Tisana? No, mia figlia è nata a Udine, lei. La nipotina invece è nata a Udine lo stesso. E l'idea di spostarsi magari dalla Tisana e di andare a partorire a Portogruaro può essere presa in considerazione? No, sarebbe meglio alla Tisana, guardi, visto che siamo qui. E l'alternativa è Palmanova? Sì, l'alternativa sarebbe Palmanova. La chiusura del punto nascita di La Tisana è una situazione paradossale e assurda. La giunta regionale sta penalizzando pesantemente il territorio, al contrario dei colleghi veneti che invece tutelano i piccoli punti nascita a vantaggio dei cittadini. Sono queste le parole del sindaco di La Tisana, Salvatore Benigno. Celarsi dietro ai numeri a scuse come la mancanza di pediatri è solo una mossa politica, aggiunge. Da un lato il piano delle emergenze spingerà le partorienti a Portogruaro e la regione sarà costretta a pagare i ricoveri. E dall'altro corre il rischio di trasformarci in un enorme pronto soccorso. Alla faccia dell'equità d'accesso, conclude Benigno, ci sono città dove i punti nascita abbondano e vengono chiusi invece laddove hanno maggiore ragione d'essere.